Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con il resoconto della terribile giornata di ieri. In basso Molise il giorno dopo l'inferno sulla costa provocato dagli incendi si contano infatti i danni enormi. Quelli a Campomarino dove oltre al disastro ambientale con una gran parte di Pineta è andata completamente distrutta. C'è anche il danno economico per alcuni lidi e un camping già in passato devastato dal fuoco. Il punto della situazione nel servizio di apertura di Manuela Iorio. È stata una giornata infernale quella del primo agosto per Campomarino Lido. Un incendio scoppiato all'ora di pranzo con il forte vento di Garbino e le temperature che hanno sfiorato i 40 gradi si è propagato in pochissimo tempo. A fuoco chilometri e chilometri di vegetazione incolta con le fiamme arrivate fin sotto le abitazioni e decine e decine di famiglie evacuate via terra e anche via mare. In azione vigili del fuoco, protezione civile, volontari, forze dell'ordine, tutti impegnati ad arginare il fronte del fuoco. Sono intervenuti anche un elicottero e un Canadair. Contemporaneamente sono scoppiati incendi a ridosso della statale e della ferrovia e sul mare bruciando ettari ed ettari di Pineta. Un disastro per il patrimonio naturale del Lido che si è consumato sotto gli occhi spaventati di turisti e residenti scappati dalle abitazioni e dai campeggi. Le fiamme sono arrivate fino al camping Marinelle che ha subito danni enormi. È andato tutto bruciato per l'incorrenza forse del comune che non è stato forse in grado a gestire l'aria visto che nel 2007 è successo la stessa cosa. Dopo 15 anni è successo di nuovo la stessa cosa. Quando io gli dissi al comune, agli enti, di tenere sgombero la strada, di tenere sgombero davanti al campeggio per i mezzi di soccorso e quant'altro, nessuno mi diede risposta. Questi sono i risultati. Nel 2007 persi 3 milioni di euro, ne investi altri 3. Quest'anno, dopo 15 anni, altri 1 milione e 100? Fate voi. Se questo è portare avanti un comune di pochi abitanti che ha l'unico patrimonio, la spiaggia e la pineta che ormai non c'è più, se è questo portare avanti un piccolo comune, benvenga. Le fiamme sono arrivate dalla ferrovia? Sì, perché la ferrovia non è stata pulita, se facciamo una ripresa si evince tranquillamente, la statale, idem, il bosco Lefantine, tanto che viene acclamato, questo bosco Lefantine fa schifo perché il sottobosco non viene mai pulito, e quindi sì, è passato da Lefantine, la statale e la ferrovia, è arrivata a me. Le villette di via Tulipane, salvate con il prezioso aiuto dei residenti, oggi si presentano così. Ieri mattina mi sono raffreddato con l'acqua tutto questo di qua e di là, in modo che l'acqua si fermasse qua, infatti si è fermata, però ci ha bruciato tutto l'impianto elettrico, abbiamo fatto l'impianto elettrico provvisorio. Ieri c'era anche qui una bombola del gas? C'era anche una bombola del gas che era in quel capannone, e l'abbiamo raffreddata con l'acqua, io ero ex pompiere, l'abbiamo raffreddata con l'acqua, poi l'abbiamo presa e l'abbiamo cacciata. E sì, è stato un incubo proprio ieri, un incubo. Lei sta qui con la sua famiglia? Sì, sì, siamo in vacanze venuti di sabato, ieri noi siamo usciti in spiaggia con quel vento che era forte, e poi mi ha chiamato Rodolfo e dice guarda Virgilio, la mole di Rodolfo, e dice guarda che sta bruciando. Abbiamo iniziato la parte del gru dietro a bagnare, perché abbiamo anche le case dietro, abbiamo con l'altro signore che è andato tutto bene, abbiamo bagnato la parte tutta dove abbiamo fermato fuoco di là, l'abbiamo fatto da soli, tirare via la bombola e rischiare proprio la vita di tutti i condominiali. Non è riuscito a rientrare fino a qua. Tanta paura per la famiglia? Di più paura perché la bimba non ha dormito una piccola di 11 anni, nell'altra 17 anni. E intanto, sempre a Campomarino, il sindaco Pierdonato Silvestri ha rimarcato le difficoltà che incontra l'amministrazione impossibilitata a gestire un patrimonio verde come quello della Pineta a Lido. Lo ha intervistato ancora Manuela Iorio. Sindaco, ieri è stata una giornata infernale per Campomarino. È iniziata la conta dei danni. Sì, stiamo verificando i danni subiti anche dai privati, perché abbiamo constatato che, ad esempio, un camping è stato completamente distrutto. Da quello che mi dicono, anche uno stabilimento balneare ha avuto dei danni, anche se non molto importanti. Quindi stiamo cercando di quantificare i danni subiti anche dai privati, perché pare che la Regione abbia intenzione di chiedere uno stato di calamità. C'è stata tanta paura ieri tra i turisti. I soccorritori hanno provato in tutti i modi a spegnere le fiamme, ma veramente il fronte era troppo vasto. Più focolai in più punti e poi questo purtroppo disastro naturale della Pineta. Tanti focolai, come lei diceva, e quindi non possiamo che pensare che la mano dell'uomo abbia provocato tutto questo. Ieri anche qualche diversa polemica sullo stato di abbandono della Pineta. Questa è una nota dolente, perché la Pineta insiste sul territorio di Campomarino, c'è il demanio e c'è la competenza della forestale. Addirittura c'è un divieto di calpestio, che vuol dire che anche il sindaco di Campomarino non può entrare nella Pineta. Quindi siamo con le mani legate per tutto quello che poteva essere un discorso di manutenzione, che secondo me avrebbe potuto evitare quello che è successo. E adesso ci spostiamo a Guglionesi, l'altro centro più colpito dai roghi dopo Campomarino. Qui nella notte le fiamme hanno ripreso vigore. Solo questa mattina sono state domate. Ora è il momento anche qui della conta dei danni. Sono una ventina le case danneggiate dalle fiamme. Il servizio è di Enzo Luongo. Un'emergenza durata 40 ore, senza precedenti quello che hanno vissuto negli ultimi due giorni gli abitanti di Guglionesi. Le fiamme si sono scatenate sabato sera e sono state domate completamente solo questa mattina, grazie all'arrivo di un Canadair. Dopo una parziale tregua nella serata di ieri, questa notte infatti gli incendi avevano ripreso vigore, facendo tornare la paura. Siamo stati investiti da questo fuoco in modo repentino. Nel giro di un'oretta e mezza le fiamme sono arrivate da una contata posta a una certa lontananza al ridosso delle abitazioni. È stato un attimo. Alberi che bruciavano. Nonostante noi abbiamo quest'anno fatto qualcosa in più rispetto agli altri anni, un costone che a dire il vero è soggetto spesso a questi incendi, abbiamo fatto una fascia di rispetto molto più ampia, ciò nonostante il vento veramente fatto sì che le fiamme diventassero incontrollabili, hanno preso fuoco gli alberi. Gli alberi sono delle torce che sono arrivate fin sopra le abitazioni, una delle quali, alcune delle quali, si sono andate a fuoco. Oggi è il giorno della conta dei danni in paese. Una cifra precisa ancora non c'è, ma la devastazione è totale. Sono una ventina le case danneggiate dal fuoco, diverse le autodistrutte, due le persone ferite. Danni ingenti anche ad aziende agricole e commerciali. Le fiamme hanno raggiunto anche l'attività dello chef Bobo, una delle più conosciute della regione, salvo il locale ristorante, ma danneggiata invece l'enoteca. Il sindaco annuncia una denuncia ai carabinieri per l'origine dolosa delle fiamme. Pare che sia anche questa volta un ingendio voluto. non possiamo ovviamente esprimerci con maggior precisione, però abbiamo diversi video che ci stanno arrivando, alcuni abbiamo fatto noi stessi da già da questa mattina, che parte da un certo punto, quindi sarà poi oggetto d'intagine da parte dei carabinieri. Faremo una dettagliata denuncia ai carabinieri per spiegare i fatti come si sono svolti e quindi dare mandato loro per fare tutti gli accertamenti del caso. E continuiamo a parlare di incendi, perché anche il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha rimarcato l'assenza di una politica a tutela del territorio e in particolare ha sottolineato durante il nostro telegiornale in diretta alle 14 la mancanza di attenzione verso la costa, dove la popolazione triplica durante l'estate. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Gli incendi che hanno stretto il Basso Molise in una vera e propria morsa hanno riproposto un problema che purtroppo è annoso e per il quale i sindaci ora chiedono venga posto un rimedio immediato. Ne è convinto il primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti. Dal 2019 ad oggi stiamo soltanto fronteggiando emergenze continue e questo ci porta anche a una stanchezza psicofisica. Dispiace aver perso quel patrimonio che è la pineta di Campomarino e per fortuna, per come sono andate le cose, non ci sono state vittime. Sicuramente bisogna rivedere parecchie cose per poter creare una certa sinergia sulla costa e garantire la necessaria sicurezza. L'emergenza di Campomarino ha avuto ricadute anche su Termoli dove sono state organizzate le operazioni di soccorso per i turisti evacuati anche via mare dalle spiagge minacciate dalle fiamme. Il sindaco, come testimoniano le immagini girate da Francesco Rinaldi, è poi sceso personalmente in campo per tentare di spegnere, servendosi di un estintore, le fiamme che erano arrivate anche su Termoli. Su Termoli abbiamo avuto una grossa criticità a causa di una serie di concomitanze dove noi ci siamo ritrovati alla fine con la protezione civile ma nessuna squadra per spegnere gli incenti perché erano tutti impegnati su Campomarino e su Guglionesi e nella stessa misura noi stavamo lì attendendo sul porto di Termoli che arrivassero i bagnanti di Campomarino che abbandonavano la spiaggia, sono arrivati lì solo con il costume li abbiamo dovuti tranquillizzare, verificare le loro condizioni di salute e portarli in una struttura del comune al Palas Abetta dove li abbiamo dati almeno degli indumenti, delle ciabatte, l'acqua e dopodiché in serata li abbiamo riconsegnati tranquillamente con i nostri mezzi pubblici ai loro cari e li abbiamo quindi riportati al Campomarino. Nella stessa maniera stavamo fronteggiando la difficoltà dei passeggeri dei treni intercity bloccati in istazione che non sapevano se aprire i treni o rimanere chiusi dentro i treni si sono create delle situazioni di tensione anche lì siamo intervenuti come protezione civile per dare supporto ai passeggeri, dare l'acqua, tranquillizzarli e poi abbiamo dovuto fronteggiare alcuni punti di Termoli dove si sono create degli incendi. Sicuramente non è certo attribuibile solo all'auto-iniezione, ci sta sicuramente la mano dell'uomo a dire tutto questo. A Riovivo poi la situazione era ancora più critica perché ci sono una serie di abitazioni che hanno i bombolori di GPL a servizio delle proprie abitazioni e quindi si temeva anche lo scoppio di qualcuno di questi. Alcune case sono andate completamente distrutte e abbiamo dovuto attendere in serata che si liberassero le squadre del gruppo antincendio boschivo che stavano impegnate sugli altri comuni per arrivare a Termoli. Mi auguro che i parlamentari molisani spingano sul governo per farci riconoscere lo stato di emergenza. È fondamentale cominciare a mettere in campo tutta quella serie di azioni che se ne parlano da anni ma che poi puntualmente non solo non si mettono in campo queste azioni ma puntualmente torniamo semplicemente a fare la conta dei danni e questo non va più bene. Credo che tutta la costa può essere messa a rischio e quindi una volta per sempre bisogna mettere in campo un punto di protezione civile che controlli puntualmente la costa perché l'estate oltre al caldo ci sono molte persone, c'è pericolo che succeda qualcosa e quindi necessariamente bisogna stare sul posto per fare anche prevenzione. E ora apriamo la pagina politica perché sugli incendi è polemica viso aperto tra l'ex governatore Michele Iorio e il presidente della regione Donato Toma, il primo che lo invita a vergognarsi per essere rimasto assente dal fronte del fuoco, il secondo replica dicendo sono stato in prefettura al tavolo di coordinamento dei soccorsi, deve vergognarsi chi innesca certe polemiche. Sentiamo Pasquale Di Bello. Sulla gestione dell'emergenza provocata dagli incendi è polemica a viso aperto tra l'ex governatore Iorio e l'attuale presidente della regione Toma. Nella tarda serata di ieri con una nota durissima Iorio ha censurato l'operato del presidente della regione a cui è stata addebitata l'assenza sul fronte del fuoco nei comuni interessati Campomarino, Termoli e Guglionesi. In questo inferno ha scritto Iorio dove era il presidente della regione capo della protezione civile. Per Iorio è un'altra dimostrazione di inadeguatezza dell'attuale presidente. Un governatore ha continuato Iorio sommerso dalla vergogna dimostrata ad un intero popolo. Le dichiarazioni della nottata Iorio le conferma una ad una a margine dell'odierno consiglio regionale. Contesto l'assenza politica dal presidente, innanzitutto delle zone colpite perché la popolazione non ha avuto, non ha sentito la vicinanza del presidente e io credo che sia stato comunque un fatto grave. Poi qualche disorganizzazione al di là della buona volontà delle forze dell'ordine che sono state splendide ma la disorganizzazione complessiva del sistema di protezione civile nell'affrontare anche questo problema dello spegnimento. Lei riteneva che il presidente dovesse essere sul fronte del fuoco? Sicuramente sì, dovesse essere presente nella zona per accertarsi e anche per dare un'indicazione, un conforto. È vero che la protezione civile ormai è diventata solo una parvenza e tutta burocrazia con degli effetti deleteri per quanto riguarda proprio il sistema delle emergenze. Però comunque anche l'assenza fisica del presidente secondo me si è notata. Senza nominarlo Toma replica con altrettanta durezza alle accuse ricevute dal suo predecessore. Dal pomeriggio sono stato sino alle tre del mattino al tavolo di coordinamento dei soccorsi attivati in prefettura. A vergognarsi deve essere chi innesca certe polemiche. Presidente Toma qualcuno ha polemizzato ieri sulla sua assenza sul fronte del fuoco dov'era? Cerchiamo di chiarire. Il presidente della regione Molise non deve stare sul fronte del fuoco. Gli operatori devono stare sul fronte del fuoco. Il presidente della regione Molise stava al tavolo di coordinamento soccorsi convocato dal prefetto in prefettura intorno alle 14 e sconvocato stamattina alle 3. Il presidente della regione Molise coordina insieme alla protezione civile, insieme al prefetto, insieme alle forze dell'ordine i soccorsi. Quindi in contatto costante e permanente con il sindaco di Termoli, con il sindaco di Campomarino, con il sindaco di Cuglionesi e con il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni. Questo è il ruolo di un presidente. Toma che ha preannunciato la richiesta dello stato di emergenza prende le difese anche del direttore del dipartimento di protezione civile Brasiello, anche lui finito nelle polemiche, pure lui invece è coinvolto al tavolo della prefettura. Stamattina valuteremo per vedere la dichiarazione dello stato di emergenza insieme alla giunta. Brasiello è stato in prefettura dalle 14 circa alle 3 e mezza di stamattina. Brasiello è quello che coordina, che ha coordinato tutte le squadre che sono intervenute. Il coordinamento si fa dal tavolo di coordinamento dei soccorsi, che è un tavolo istituzionale che deve convocare il prefetto e chi ha convocato il prefetto o un suo delegato, dice la legge. Quindi eravamo tutti sul pezzo. Chi non conosce poi le procedure di protezione civile perché non le ha mai seguite in prima persona può dire di tutto e di più e dovrebbe vergognarsi. In apertura dei lavori del Consiglio Toma ha reso note le ragioni che hanno portato alle dimissioni di Floride Grassi, ex commissario alla Sanità per il Molise. Oltre alle ragioni personali per la De Grassi non esistono in Molise le condizioni per l'espletamento del ruolo che le è stato assegnato, questo per la grave carenza di personale da assegnare alla struttura commissariale. Occorrono risorse umane formate da affiancare al commissario, ha scritto la De Grassi, che purtroppo mancano. Ora la cronaca perché l'intervento provvidenziale di una pattuglia dei carabinieri di Isernia ha salvato la vita a un uomo colto da malore mentre era alla guida del suo furgone i militari dell'arma lo hanno soccorso mentre percorreva la statale 17 chiedendo l'intervento di un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Le condizioni dell'uomo ora non destano particolari preoccupazioni e siamo all'aggiornamento dei dati covid con l'ultimo bollettino Asrem che riporta tre nuovi contagi rispettivamente a Frosolone, Sessano e Ururi su 347 tamponi processati. Tasso di positività scende allo 0,8%. C'è un paziente ricoverato in malattie infettive mentre i guariti sono sei. Gli attualmente positivi sono 126 in tutta la regione. Due i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in infettivi l'altro in terapia intensiva. E ora parliamo dello scontro mortale avvenuto a Venafro tra un'auto, un furgoncino e uno scooter alle porte della città. Lo scontro è costato la vita a un uomo di 81 anni. Di Venafro il servizio è di Barbara Fino. Coincidente si è verificato lungo viale San Nicandro a Venafro in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni che era la guida del suo motociclo. Lo scontro avvenuto quasi all'altezza del cimitero francese ha coinvolto il pensionato il suo mezzo, una Fiat Punto e un Fiat Doblò. Uno schianto violento, le cui dinamiche sono ancora al vaglio dei militari a corsi sul posto, che non ha lasciato scampo all'81enne di Venafro che viaggiava a bordo del suo scooter. Attivata subito la macchina dei soccorsi, sul posto un'ambulanza del 118 che non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo e i carabinieri del nucleo operativo di Venafro che hanno chiuso la strada e il tempo necessario per effettuare i rilevi e accertare le dinamiche dell'incidente ed eventuali responsabilità. Dalle ricostruzioni, dalle testimonianze raccolte dai militari, sembrerebbe trattarsi di un triplo tamponamento che è costato caro al pensionato Venafrano. Dopo i rallentamenti e le code dovute alla chiusura della strada, la viabilità è poi stata ripristinata. E un uomo di 60 anni di Termoli è morto stroncato da un malore nel pomeriggio di oggi mentre era in spiaggia tra Montenero e Petacciato. Diversi turisti hanno subito allertato i soccorsi ma per il 60enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Voltiamo pagina, parliamo di politica, parliamo delle elezioni a Isernia perché frutto di un compromesso tra destra e sinistra alla fine il governo ha deciso di fissare a inizio ottobre le elezioni. Si voterà così per i nuovi sindaci domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Elezione del nuovo sindaco di Isernia ancora si naviga a vista in entrambi gli schieramenti alla ricerca dei migliori candidati possibili. Per il momento l'unica notizia certa è che la data più pronosticata per le prossime elezioni amministrative è quella di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. La decisione ufficiale del governo ancora non c'è ma è questo l'orientamento del Consiglio dei Ministri e del Premier Mario Draghi. Si tratta di un compromesso tra il centrodestra che chiedeva di restare fermi sul 10 ottobre e il PD che voleva anticipare il voto alla fine di settembre. Si tratta di una tornata elettorale molto attesa, le urne tra le tante città oltre Isernia anche Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Poi la Regione Calabria e le suppletive per la Camera nel Collegio di Siena dove sarà candidato Enrico Letta, segretario nazionale del PD. Con le elezioni del 3 e 4 ottobre bisognerà chiudere le liste entro la fine di agosto. Da diversi sindaci, soprattutto del PD, è stata rivolta al governo una sollecitazione ad anticipare l'apertura delle urne anche per evitare di incappare in una fase acuta della pandemia. Dal centrodestra la Lega in particolare è stata espressa a contrarietà a un eventuale anticipo della data delle comunali a settembre. Alla fine è stato raggiunto nel governo il compromesso su 3 e 4 ottobre. Il consigliere comunale di Campobasso Alberto Tramontano ha presentato un esposto al prefetto di Campobasso nel quale denuncia il mancato rispetto delle norme da parte della giunta gravina secondo l'esponente della Lega. I consiglieri non sarebbero stati messi nelle condizioni di esaminare il documento unico di programmazione elaborato dall'esecutivo senza il coinvolgimento delle competenti commissioni consigliari. Ancora una volta la giunta gravina calpesta i principi di trasparenza e correttezza amministrativa. Oramai il comune di Campobasso appare sempre più un bunker. Questo il commento di Tramontano. E adesso andiamo a Montorio nei Frentani dove fervono i preparativi per la 25esima edizione di Noi Artisti di Questa Terra. L'appuntamento è per l'11 agosto alle 21. La prenotazione è obbligatoria ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Patrizia Testa. Dare spazio a grandi talenti e lustro al paese. Con questi intenti da 25 anni Montorio nei Frentani propone Noi Artisti di Questa Terra. Una manifestazione storica e solida realizzata sotto la direzione artistica di Marco Molino che ha ricevuto il testimone dal papà Antonio Molino. Abbiamo pensato di invitare come ospite della serata il poeta Franco Arminio che si autodefinisce paesologo. Mai più artista e poeta azzeccato per la nostra manifestazione. Invece l'ospite della serata sarà l'artista Simona Molinari. Si esibiranno inoltre l'orchestra Ensemble Kalos che è un'orchestra di 20 elementi Mollisane un progetto è nato quest'anno e faranno un omaggio a Piazzolla perché quest'anno ricorre il centenario dalla nascita di questo importante artista. Si esibirà inoltre la ballerina Mollisana Valeria Pizzuto proveniente dalla scuola Open Arts di Campobasso quindi daremo anche un premio didattico quest'anno e questo è molto molto interessante. Montorio nei Frentani si prepara ad accogliere gli artisti e il pubblico nel rispetto delle norme anti-covid. Non solo musica in programma l'11 agosto saranno infatti premiate personalità che si sono distinte nel proprio lavoro in diversi ambiti artistico, sportivo, culturale. Il primo premio sportivo di diritto rientra alla società sportiva Campobasso Calcio per la vittoria del campionato e la promozione in Lega Pro. Premio sportivo all'arbitro Luca Massimo e premio alla carriera sportiva a Gianni e Giuseppe Castaldi. Premeremo invece la scultrice Valeria Vitulli e il fotografo Tombolini. Inoltre apriremo un focus con la tradizione delle carresi, quindi la carrese di San Martino, Portocannone, Ururi. La nostra manifestazione è al loro fianco e premeremo il rappresentante dell'Unione Carresi Pasquale Di Bello e premio letterario invece al dottor Giuseppe Zio. Un evento organizzato dall'associazione culturale Noi artisti di questa terra e supportato dalla regione molise e dal comune di Montorio nei Frentani. 25 anni fa sembrava un'avventura pionieristica e abbiamo retto con tutte le amministrazioni anche in questi ultimi due anni di pandemia, quindi 25 anni senza soluzione di continuità, tutte le amministrazioni hanno sorretto e hanno patrocinato questo importantissimo evento che riconosce e dà lustro ai personaggi che si sono affermati nei vari campi della cultura, della società civile, sportivo ed altro. L'obiettivo è quello di andare avanti anche perché 25 anni sono il passaggio di una generazione, da Antonio Molino si è passati alla direzione di Marco Molino, quindi un passaggio di consegne con la prospettiva di arrivare ad altri 25 anni ancora. Era l'ultimo servizio con la 25esima edizione di Noi artisti di questa terra che si terrà a Montorio nei Frentani, termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise e buonanotte. Grazie a tutti.